Kate, la principessa del Galles, parteciperà a un evento importante dopo aver subito un intervento chirurgico addominale programmato presso la London Clinic a gennaio. La principessa Kate potrebbe fare un grande ritorno reale entro poche settimane, poiché è probabile che faccia un'apparizione a un importante evento reale. Gli assistenti di Kensington Palace stanno finalizzando i piani per un ritorno graduale della principessa del Galles alla vita pubblica con un'apparizione in chiesa la domenica di Pasqua con il resto dello studio, riporta il Times. Secondo quanto riferito, una squadra è stata incaricata di garantire che il ritorno di Kate ai compiti ufficiali avvenga nel modo più agevole possibile. Dopo alcuni mesi vorticosi per Kate, 42 anni, e il resto della famiglia reale, l'annuale servizio mattutino di Pasqua si svolge presso la cappella di San Giorgio a Windsor. Si pensa che il ritorno graduale sarà seguito da una pausa con i suoi figli durante le vacanze scolastiche, prima di tornare a un programma più completo una volta che il principe Lewis, la principessa Charlotte e il principe George torneranno alla Lambrouck School il 17 aprile. Quando la principessa del Galles farà il suo ritorno, ci si aspetta che si concentri sul progetto dei suoi primi anni, che è stato descritto dagli assistenti come «il lavoro della sua vita». Dopo le varie teorie del complotto che circolano online, però, gli addetti ai lavori affermano che ora è necessaria, un'attenzione ancora più acuta, sul suo ritorno. Ciò arriva dopo che le riprese condivise dal Sun mostrano Kate, e il principe William in un negozio di fattoria a Windsor, vicino alla loro casa di Adelaide Cottage. Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori